La gara si è svolta su un circuito tracciato nelle acque del fiume Detroit alla presenza di una polla di parecchie migliaia di persone, tra cui erano numerosi italiani, ed hanno partecipato, oltre all'alaggi del valoroso campione italiano, il Miss Golden Gate di Dunn Arena, il Miss Canada che si è fermato sul circuito per un guasta alla lubrificazione e l'Excuse Me che ha abbandonato l'ultimo giro a qualche centinaio di metri dal traguardo, gravemente ha variato al punto di correre il rischio di affondare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!